want to get the best csgo skins check out csgocases.com try your luck open cases and win your dream skins use code in the description for free 50 cents csgocases.com ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video ragazzi in questo nuovo video dove sono visto il sito csgo case io vi consiglio veramente di accettare il mio ref code lo trovate direttamente sotto al video quindi descrizione e ragazzi vi consiglio veramente di accettarlo che potete ricevere almeno 50 centesimi per aprire questa cassa e se siete fortunati se trovate qualche altra skin potete venderla e aprire altre casse quindi cercate di accettare il mio ref code sto qua perché in questo video poi farò un unboxing quasi da 539 dollari di alcune casse quindi apriremo anche quella del coltello e vedremo un po cosa troviamo all'interno quindi questo è il mio ref code accettalo e riceverai in omaggio già 50 centesimi per aprire qualsiasi cassa che arriva fino a 50 centesimi ok quindi per ricevere altri soldi su csgocase.com potete andare direttamente su giveaway get ed è qui come puoi vedere se accetti il mio ref code 50 centesimi questo qua della task accetti il mio ref code abbinite alcune notifiche lo segui su alcuni social e otterrai più o meno un dollaro e 10 centesimi potrai aprire delle casse e ottenere delle skin da vendere e poi una volta vendute potrai aprire altre casse ok quindi tentare non noce accetta e vedi un po se sei fortunato e otterrai veramente skin di un grandissimo valore inizierei prima ad aprire questa cassa qua quindi da un dollaro e 49 ne aprirò più o meno 3 e vediamo ci spediamo 4 dollari 47 centesimi ci facciamo 39 dollari quindi e apriamo eh non male più o meno 2 dollari 2,5 e abbiamo speso 4 dollari 47 però abbiamo rilevato più o meno più di 6 dollari quindi io o le vendo me ne tengo e adesso me ne tengo torniamo indietro voglio aprire adesso questa qua quindi tutte e tre le aprono tutte e tre me ne frega niente 30 dollari 47 centesimi vediamo un po cosa troviamo all'interno mamma mia incredibile c'è incredibile due skin due skin sia del terrorista che dell'antiterrorista è una 5-7 la skin della banana ma anche in business ho speso 13 dollari 4 4 fa notte 12 dollari vediamo se c'è qualcos'altro da aprire apriamo questa qui covert e vediamo cosa troviamo all'interno eh questa pure non è male questa M4A4 di questo colore qua che è veramente bellissimo questa è anche una skin fenomenale del terrorista non è male non so male queste skin veramente questo sito è ottimo ve lo consiglio veramente che se ottenete quei 50 centesimi e se siete fortunati potete continuare ad aprire le casse quindi se trovate qualcosa di veramente costoso vendetelo vendete tutto finchè non trovate proprio qualcosa di veramente di valore ok quindi allora vediamo poi adesso ne apro 3 23 dollari e 97 centesimi e vediamo eh non male non male non male cioè solo questa sta 11 dollari questa sta 20 dollari e questa sta 4 cioè ci siamo fatti più o meno 35 dollari aprendo una cassa da 24 dollari quindi ci siamo fatti un bel po' di profit speriamo di non spendere tutti i soldi perché poi dobbiamo aprire quella del coltello eh l'aprirò più avanti quindi ti consiglio veramente di guardarlo tutto il video voglio aprire un'altra cassa il coltello lo mettiamo alla fine vediamo questa tiger 8 dollari e 69 3 facciamo 5 che dite facciamo 5 facciamo 5 43 dollari e 45 centesimi e vediamo un po' cosa possiamo trovare mamma mia ma stiamo scherzando lì c'era un coltello non mi dai coltello 64 dollari laug bengal tiger c'è 64 dollari e quando ho speso 45 quanto ho speso ho speso un bel po' 45 cioè potrei vendere tutte dopo le vendo e apro altre casse c'è quando ho speso 43 dollari e mi hanno dato più di 70 dollari e allora vale proprio la pena se io adesso caccio 50 dollari e li metto qua sopra potrei ottenere delle skin di valore cioè una skin potrei ottenere una skin da 50 dollari e altre skin da 20 forse 10 beh si totalizzano e ne ricavo veramente tantissimo veramente un grande profitto questo sito veramente non è male non è male 43 dollari di nuovo lo faccio di nuovo beh 22 7 29 34 beh che posso dire c'è questa qua laug bengal tiger 60 dollari 5 dollari questa cosa non la capirò mai ah l'hanno testata per questa costa pochissimo proviamo ad aprire altri casse ma i soldi mi sono rimasti 410 dollari mmm questa qua hyper madonna 3 74 dollari 74 dollari 97 arrotondiamo 75 quindi apriamo e vediamo un po' cosa possiamo trovare all'interno beh me 4 a 1 51 dollari c'ho guadagnato parecchio cioè ho speso 75 dollari invece ho guadagnato intorno ai 100 eh 111 dollari oh non male non male veramente non male non male ne apro solo 2 50 dollari vediamo hyper per 29 un po' una fregatura 10 dollari in meno 130 dollari qua 19 dollari li ho persi 285 dollari vado un attimo a vedere tutte queste skin che ho ricevuto venderei un attimo la skin anzi farei tipo un upgrade di vediamo se la trovo dove è l'aug che ho vinto 5 dollari 64 dollari facciamo l'upgrade di questo aug vediamo un po' allora fare l'upgrade allora faccio l'upgrade dell'aug dell'M4A1 115 dollari scegli una ricompensa io metto questa metto questa e vediamo un po' se la ricevo aggiornamento mamma mia incredibile incredibile l'abbiamo vinta bellissima ora metterei questa 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 no toglierla 31 dollari per questa qua ufficiale e questa qua facciamo l'aggiornamento ovviamente più soldi spendi su questo sito e più ricevi tante ricompense quindi fai un grande investimento di 200-150 dollari e stai certo che ne otterrai veramente tantissime tantissime skin da vendere poi su steam quindi le prendi le vendi fai quello che vuole scambi fai l'upgrade io ritorno ad aprire le casse prima cosa vado un attimo a vendere un paio di cose c'è questa skin 131 dollari quindi venderei un attimo questa venderei un attimo questa ah questa non la posso vendere vabbè allora possiamo andare ad aprire il coltello oppure faremo un attimo un'altra cosa faremo un'altra cosa faremo un'altra cosa faremo allora allora facciamo così prendiamo questa da 2 dollari e 50 chissà cosa possiamo vincere facciamo 5 12 dollari e 55 e l'apriamo vediamo eh non male tutto epico eh non male tutto epico quindi 2 dollari e 5 12 dollari però ho ottenuto 15 dollari di skin non male non male c'è questo sta 169 dollari beh sai che faccio adesso sai che faccio eccola eh no io lo faccio non lo faccio lo faccio io spendo i soldi per questo coltello 2 non li posso spettare 159 invece sono 5 899 dollari chi è il pazzo che spenderebbe 169 dollari vediamo via ma da per poco non prendevo questo a me dai questo a me dai vediamo quanto costa mamma mia cioè veramente cioè questo sta a 234 dollari cioè io ho speso 180 dollari e mi ha dato un coltello da 234 dollari veramente questo è che ci sono rimasti un paio di soldi ehm facciamo quella da vip questa qua faccio tipo 3 59 dollari 97 e apriamo vediamo allora quindi è vero se tu butti 50 dollari guarda la 120 dollari 120 dollari di queste 3 skin non so male eh come il coltello 179 dollari cioè 234 dollari come il coltello e mi sono rimasti 32 dollari e vediamo un po' cosa posso la cassa dei cecchini dove sta la cassa dei cecchini non c'è la cassa dei cecchini questa questa è l'altra ah questa ehm fanne 14 ci vediamo per poco non prendevo questo 19 centesimi 6 dollari e 6 adesso sono 18 dollari un po' una fregatura ma 17 dollari e 78 e cosa possiamo prenderci più e cosa ci possiamo prendere ah apriamo questa apriamo questa 10 4 17 dollari e 45 centesimi ultima apertura ultimo spacchettamento di questo di questa grande cassa e finiamo pure qua il video e vediamo dai 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 vediamo vediamo la cappa la cappa la cappa la cappa finisci 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 539 dollari per un paio di skin che poi abbiamo fatto anche l'upgrade non è male non è male questa qua veramente non è male pure costosissima e quindi ragazzi spero tanto che questo video vi sia piaciuto vi consiglio di nuovo di accettare il mio ref code il mio ref link eccolo qua qua sotto in descrizione lo trovate e ragazzi cosa vi posso dire di più iscrivetevi al canale attivate la campanellina lasciate like se vi è piaciuto il video di questo grande spacchettamento di questo grande upgrade che abbiamo fatto e abbiamo ottenuto una bellissima skin e quindi grazie a tutti per questa visione e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao ciao